Allora, 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 allora direi una cosa Grazie, grazie Ora ci fanno, oh non abbiamo un po' iniziato Non ci fanno piangere subito E oggi è una giornata speciale perché, ahimè, qui finisce questa avventura Siamo tristissimi, perché è l'ultima puntata Eh sì, non so Ma siamo contentissimi perché voi avete accolto questo programma alla grande Grazie, grazie e grazie ancora In realtà veramente non ce l'aspettavamo proprio questa cosa, questa magia che è successa in questo show Quindi io sono molto felice e approfitto, approfitto di una cosa Te lo dico con il cuore, vi giuro che non era in scaletta questa cosa Io sono felice di averti incontrato Perché? Guardami Perché non capita, noi lavoriamo con tante persone Ma non capita spesso di avere un rapporto così E io so che dopo questo show tu rimani nel mio cuore come amico Che mi farai gli auguri di Natale Che io verrò di nuovo a casa tua a mangiare quello che ho mangiato l'altra volta Che mi hai fatto mangiare tantissimo E ti voglio bello Vabbè Non era in scaletta quindi È rimasto un po' E mo' che devo fare? No, mi fa piacere, figurati Perché anche io ho incontrato veramente una persona meravigliosa, straordinaria Una donna normale, come il 90% degli italiani Sono belli come te Non c'è niente da dire Grazie